ragazzi eccoci qua ancora torno su divinity original sin allora mi sono informato un pochino e ho visto che i personaggi si ricaricano anche nella taverna quindi vorrei prima andare a provare è grandissimo pericolo allora diamo un attimo un'occhiata alle missioni da mettere un po d'ordine che sono mille figlie ma non si capisce neanche tanto bene io sono un attimo la taverna di vedere come si fa e posare se il fatto di sta telecamera così piacerebbe avere una vista frontale più più profonda allora di sopra parte esserci il mercante dovrebbe essere c'è anche dei letti tipo qua che cazzo si va per dormire lanza di grande però che c'era il mercante o allora qua adesso dobbiamo passare qualche minuto perché allora questi ci sono delle abilità va bene allora vedo che però non c'è la possibilità di dividere poi il campo all'armatura legante di stoffa un intero cuoio eccetera la sorgente neanche perché l'ho venduta io anche questa l'ho venduta io vediamo un po gli stivali uno mercanteggiare 085 movimento bracciali non è che ci siamo però ah ecco posso cambiare direttamente la foto così qua da mangiare le teniamo perché sono tanti conosciuti vado di peter lee ad una mano aspettiamo un attimo allora magari poi la do a non è che ci sono tanti il fuoco magari servono che quadri dove valgono non c'è quasi più soldi un attimo il punto equipaggiamento allora madora armatori madora 28 più un'iniziativa non era scarlet tot v1 iniziativa ad esempio questa qui posso dargli arricchetti destrezza 6 destrezza 5 vaffangulo vari come me adesso colore 11 quindi rettini sono uguali allora l'anello devo farlo passare da scarletta rolle madonna che dibalto e sarò che quale via rolle allora identifichiamo l'anello ecco lui poteva farlo automaticamente per usare la il 8 per cento di senza verano più non sapienza magari è più per il mago che dà la sapienza bene cos'altro abbiamo dunque cose che possono migliorarci la spada di peter lee vediamo madora vediamo padone a due mani però e con la spada da una mano però è molto potente è un po cosa posso comprare l'ore 9 non è che diano molto in più fuccio logoro niente per adesso non posso comprare un cazzo per bagnere quindi devo parlare gioco il tizio per dormire non ho ancora capito ma c'è anche lì una botola non la vovo via padroni che vedeci dopo vedo parla direttamente con loro porca puttana allora qui dove cazzo ci va a dormire ah ecco ah con il personaggio va bene ogni personaggio lo si butta nel letto ho capito va bene quindi facciamo un attimo di ordine dobbiamo rifare almeno una missione delle spiagge isolate della zona e le spiagge qua vediamo se trovo qualcuno bambini avrà le conchiglie non ho visto cosa... ah... padre perlo è un conchiglione... scusa... padre perlo, però forse non l'avevo sentita da qualche parola dunque di chi non si passa... anche... all right Niente, diamo un'occhiata alla costa, vediamo qui, posso trovare questo gitmar, questi sono ancora ubrei a chiuso. Ora non si va, il ramo, vabbè non mi frega di niente dai, dipendono i rami, punto vale, 0,50, ho il peso. Niente, vediamo se dicono ancora qualcuno, guarda direttamente qua, guarda direttamente qua. Siamo tutti un po' incazzati? Qui viene spazzolato. Niente, qui è dove abbiamo incontrato gli orchi, ma gli orchi non si può salire. E qui sul porto, no, devo andare avanti, devo andare avanti, guarda che bestione. Bella però questa cittadina, piena di dettagli, di... dobbiamo uscire di qua. Sto pensando di esplorare la piazza? Sei libero di andare, ma noi legionari siamo sotto ordine stricte, non per abbandonare i posti. Io non penso che sei pronti per andare fuori nel mondo per me. E anche, sicuramente spero che... Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. però una trappola quanti orchi morti adesso vuoi farnadori e adesso sicuramente saranno va bene ave degli occhi sono che piangi chi è un figlio chi è un figlio Ah un altro mercante Quello Annelli, bacchette, bastoni Che monta roba Forza 5 E che non riuscendo a confrontare Ah ecco, confronto Ah perfetto Eh però costa tantissimo in più rispetto a quello che Al brocchiere è uno scudo Niente, per adesso c'è un problema Andiamo avanti a cercare Ah però potrei fare così Visto che c'è la spada Voglio provare Provare così Vediamo come Eccolo in esplosiva vediamo se qualcuno è in grado di no no nessuno la riesce a disarmare allora chi le trova roderick non posso prendere forchi sono più forti di te è però una fuga di gruppo questa la tengo qui vediamo qualche status vorrei far esplodere non si chiede niente ciao che moriscono completamente ma 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 e madora l'opzione fuga non ce l'ha piacerebbe sapere dov'è che si mettono dove si imposta ecco è andata sopra la mina giustamente ma roderick è atterrato e che è stato proprio seppellito porca puttana è morto la roderick è morto no vabbè niente ricarico ricarico il non posso andare giù di lì ancora sono troppo debole figo ah qui gli ha tipo morto qualcuno ha fatto alba di ile è un cadavere dolco seppellito allora cappucci di stoffa identificato da due mani ciula via roderick e questo dunque 580 per cui adesso la invio a scarlet da un po' 33 42 critico 220 per cento richiede forza 7 quindi non può ancora utilizzarlo per roderick doveva identificare prova qua ma non mi lascia per niente lui non mi mandare per fare che cosa chi è che sta attaccando daia ah minchia questo orcone qua si è incazzato ha perso un turno ah perché siamo andati a disseppellire tipo sopra te lo qualcosa non ha subito c'era niente non ha subito c'era niente un aumento dei danni a scarlet un aumento dei danni a scarlet cazzo da energia notaria figa non è morto però attenzione allora cosa posso fare tacchi potenti vabbè quale dopo mi toglie la precisione quindi uno di madonna madonna direi che forse è meglio scappare madri non si può nooo perché c'è girata così nooo non mi ha fatto granché eh è infatti all'aria però aria centesimi di aria non ne ho cazzo si rigenera anche poi mi ammazza questo qua non è non è il caso di venire da ste parti l'auto metà energia ai punti azioni sufficienti mi muoio io si tornerò alla città direttamente senza rifare tutto sto pezzo e non è facile non è facile per niente questo gioco no non si può uscire devo andare avanti ed esplorare qui dentro cercare di risolvere qualche missione verso di livello qui dove siamo vabbè qua mi sa che siete passaggio alternativo dunque cazzo posso fare faccio mille missioni ma non picca esmeralda ecco filtro elementi completati va bene bene ho capito le piramide del trasporto anche lì non ho ben capito vediamo un attimo che mi fa montare perché l'altro l'ho preso a forse serve bisogna lasciarne una in un posto e metterne una in un altro per avere che è allora proviamo un attimo lascio oggetto l'altro l'altro è chi ce l'ha l'altro è esatto l'altro è perfetto è i trucchettini quindi potrei eventualmente lasciarne una nella taverna nella stanza lì dove si va a dormire tre volte tornarci tornarci velocemente l'altro è è ... ... ... ... la lascio lì allora allora e il problema è improvvata perché la missione non si compie e spiagge isolate caverna nord l'unica sta caverna nord magari il nord sarà di qua di qua ovviamente di qua ah no eccolo la ci ha segnato la nord la bussola vediamo se si trova questa caverna se riesco a combattere perché adesso qua anche i cinghiali così sono forti turno di rodrile allora vediamo tutti i nemici che ho sul terreno assassino corazzato arciere non morto cinghiale zombie cinghiale zombie cerchiamo di capire un altro spiacciamento quindi come posso utilizzare al meglio allora vediamo questa scarlet visto che c'è visto che c'è visto che c'è lo schiacciamento c'è vediamo un po' qui dietro allora madora madora danno da schiacciamento prima ci arriverà subito terramento avvelenamento atterramento bene e cazzo c'è il sacerdote un arciere quattro cinghiali scarlet scarlet anche scarlet schiacciamento andiamo a vedere se riesco a colpire l'altro cinghiale erano morto non ha debolezze ci sembrerà non ha talenti mentre mi avvicino ah è vero c'è anche l'assassino corazzato non solo niente come roderick quelli sono fuori dal 9 anni da acqua pergamene che quello anche ste robe qua potrei utilizzare tipo granata salio troppo lontano anche qui colpisco anche niente dai i turni per ricaricare vorrei aspettare cazzo 44 danni figa dai quanto cazzo son forti di non poter fare niente in game c'è niente tante cose invece preghetto turno di roderick è una vampata questo 38 anni abbampamento la seda allora madora madora vediamo un po non si possa inviare la roba non credo che mi sembra che dovevo bilanciare il il cibo oltretutto c'è anche pochi punti azione ecco l'affanculo tra d'acqua turno di scarlet arriva è atterrato ancora per un turno ma d'ora sta andando ecco interessante che che rimane per più tempo il fuoco 9 pochino cazzo pochino quattro turni di ricarica niente non scapparla scappare vediamo se mangiare perché non mi ricordo mai se mangiare mi toglie dei punti azione ha tolto quattro punti azione niente si devono evitare il fuoco altrimenti non ho capito bene per quanti turni rimane però si cerchiamo andare a colpire questo ok trasformato in fatti di ghiaccio 43 turno di madora e io la va dunque madora madora e farla andare qui poi rischia di subire gli attacchi devo aspettare un attimo bene bene oh perfetto è andato nel fuoco ottimo ottimo è un'ottima cosa questa qua del fuoco è che adesso arrivano ancora due cinghiali cazzo è ora fin qui è basta proviamo adesso allora attaccare alle spalle dai due volte che vergogna carle deve mangiare per forza prendono una cura cazzo non c'ho qui niente ma c'è le pozioni non tolgono forse uno dai cazzo guarda lì guarda lì cazzo sto cinghiale figa allora quali provo a farglielo far fuori a allora eh veleno dove cazzo era quel veleno lì cuscino puntaspilli adesso un fottuto comunque sta sta facendo del fuoco mi apre nuovi scenari perché non avevo capito bene sta cosa che carichiamo madonna non c'è un combattimento allora devo però un attimo fare un movimento qua non tutte e quattro come si fa a dividere dai e tanto coso no però buttarla via così mi erano i tuoi allora in due poi formaggio prosciutto ma ecco ci sono anche i punti a quattro punti ap più uno forza più una velocità Roderick, vediamo un po' cosa c'è nell'inventario sconosciuto allora la carne di Amadora c'è una pozione se te la lascio poi dovrei capire anche come come creare le pozioni quelle robe lì però magari se robe le faccio poi le farò poi fuori dai video perché stanno già diventando delle robe tra peso proviamo a vedere ah e anche per mettere le cose nella nella barra come cazzo si fa o così ok ok quando quella roba lì non serve anche altro poi qua il discorso per fuggire ecco ci sono anche le storie acqua terra con un bersaglio a terra ah ripara è una figa ma il discorso per fuggire le cose andiamo un attimo a vedere così ad esempio adesso con roderick se io troppo lontano però se faccio una roba del genere che legnata questa e avvicinare e adesso purtroppo i cinghiali lì mi hanno già però intanto si è infiammato molto bene lo rio andrei sul sacerdote cazzo 2 però così pronto dai che sono quasi morti ah hola ai 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 ma ora resisto la morte allora turno di scarlett vediamo un po' adesso però scarlett dalla distanza non può fare una sega quindi potrei spostarmi però se ne frega no incoraggia incoraggia turno di roderick roderick è quello che può sparare a distanza per cui una vampata al sacerdote c'è anche un bastone del mago eh però non si arriva sono l'arciere ma ad ora si deve curare assolutamente e userò il cibo bella scarlett dunque usiamo lo schiacciamento speriamo ad atterrare sto cazzo d'arciere la fatta credo si l'ho sposto indietro perché roderick ah 500 xp ora è morto qualcuno è morto forse l'arciere no sacerdote per in mezzo al fuoco si 23 poi cosa abbiamo qua l'aumento dei danni torno di madora madora mettiamola qua pugnazzo avvelenamento e atterramento bene turno di scarlett siccome c'è l'atterramento si potrà andare qui vediamo aspetta roderick dalla distanza lo facciamo colpire con una vampata vela vela merda non è morto morto il cinghialone si bella ai madora su si ti voglio cazzo stardo 42 cazzo così così è un'altra cosa adesso però è grandissimi grandissimi e qua non andate a bruciarvi dunque non hanno aumentato i tratti ecco adesso in teoria dovevi fare così dov'è prima salvare carlett inventario usare la piramide perfetto dunque quella che sta peggio è madora vediamo un po' si pian piano si rigenera ah che figata cazzo però dovevo usare l'altra piramide e lasciarla là che pirla dovevo lasciarla l'altra piramide vediamo se si può usare da terra senza raccoglierla e cazzo vabbè per la prossima volta quando voglio tornare a rigenerarmi basta che metto giù la piramide riparto vabbè dai torniamo sul luogo poi stoppo il video sarà già lunghissimo dov'è che sono uscito dai ah però vabbè ho sempre bisogno di qualche però di qualche di qualche pergamena di qualche qualche abilità particolare per esempio cioè lì il combattimento l'ho vinto perché ho usato quelle granate esplosive altrimenti quel cazzo questo non li ha però granate della nube tosi granate a fumare grazie a tutti grazie a tutti tocco debilitante per adesso queste quali non è che mi servono ancora no vabbè il formular fatto saltare il quadro ecco per fare i soldi c'è la possibilità di rubare un sacco di roba basta non farsi sgamare c'è una cosa singolare che non sono non ce l'ho fatta aumentare di livello adesso ci vuole un bel po e comunque per quanto riguarda la cura probabilmente probabilmente la posso utilizzare anche ma per cuocerla questa carne come si farà tipo dell'abilità karma del sopravvissuto vediamo il attore scelto io vediamo scarlett l'alto livello è abbastanza ariche di livello 6 la terra niente non è abbastanza ariche di livello 6 la terra niente prendiamo anche la prossima volta il saluto